Gioia e commozione per la dedicazione della chiesa di Sant'Anna a Rapallo. Il Vescovo, ogni chiesa nuova, è espressione di tutte le comunità. Domani la solenne processione con l'Arca della Santa. Conclusa la prima settimana della GMG per i ragazzi della diocesi di Chiavari. Prima della partenza per Cracovia, il saluto della diocesi di Radom che li ha accolti con entusiasmo. Atti di terrorismo e di violenza deplorevoli. La denuncia di Papa Francesco sui drammatici eventi di Monaco di Baviera e di Kabul. All'Angelus, la preghiera delle pontefice per l'ormai prossima GMG. I giovani e il tempo dell'estate tra viaggi, studio e lavoro. Inchiesta alla scoperta di come i ragazzi del Tiguglio spendono il loro tempo di vacanza. Buongiorno ai telespettatori dell'Ettrici 13. Bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione. La chiesa di Sant'Anna a Rapallo è realtà. Ci sono voluti 50 anni di attesa ma da sabato il popoloso quartiere rapallese ha un nuovo edificio sacro dedicato a momenti di culto ma anche a diverse attività parrocchiali al servizio della collettività. Il rito della dedicazione è stato presieduto dal vescovo Monsignor Alberto Tanasini. Ripercorriamo nel servizio i passaggi, i momenti principali di questo evento. Con gioia rivolgo un caro saluto a tutti voi. Siete venuti davvero numerosi per partecipare al rito della dedicazione della nostra nuova Chiesa. Attesa da circa 50 anni. Invito il parroco di questa comunità ad aprire le porte della Chiesa in modo che tutto il popolo di Dio possa entrarvi. Ho voluto ricordare Don Daniele Noce, il primo parroco di questa parrocchia, Don Pasquale Marcone con cui ho collaborato per molti anni. indubbiamente iniziare una comunità non è un'impresa facile, quindi ringraziamo il Signore che ci ha sostenuti in questi anni. Io ho voluto ricordare l'esodo del popolo ebraico. Non vorrei peccare un po' di orgoglio e di superbia, ma indubbiamente alcune caratteristiche del nostro cammino ci ricordano il cammino di quel popolo. Grazie. 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 La Chiesa Nuova è un'espressione di una comunità, ma chiede l'attenzione di tutte le comunità. E questo è avvenuto. Questa sera c'erano molte persone che non sono parrocchiane. E credo che abbiano vissuto anche loro questo momento con entusiasmo. E come abbiamo visto per la comunità di Sant'Anna Rapallo, la gioia della dedicazione della nuova Chiesa non si è esaurita con la cerimonia di dedicazione. Ieri la Santa Messa delle Undici è stata celebrata dal Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti. Domani la processione solenne invece sarà guidata da Monsignor Alberto Maria Careggio, Vescovo Emerito di Ventimiglia Sanremo. Sentiamo i parrocchiani come hanno vissuto queste giornate di festa. E' vissuta anche un po' tutta la storia che ha portato a questa chiesa. E' vissuta di dentro e di fuori. Perché chiaramente non è stato semplice, è stato molto lungo. Pensiamo soltanto che sono passato undici anni dalla posa della prima pietra, ma prima di quella c'è stato un iter lunghissimo in parrocchia per le posizioni. Un po' di qui, un po' di là, un po' di su, un po' di giù. Alla fine non andava bene neppure uno. E alla fine, grazie al Vescovo di allora, Careggio, aveva preso questa grande decisione dell'acquisizione di quest'area. E poi da lì è partito tutto l'Ambaradà, che è stato un vero Ambaradà. E' contento di questo traguardo? Beh, sicuramente sì. Finalmente, dopo tanti anni, abbiamo la nuova chiesa, siamo molto contenti. Ci dispiace solo tante polemiche che hanno fatto, ma speriamo che sbandiscono nel nulla. Organizzate anche uno spettacolo pirotecnico proprio per il giorno della festa di Sant'Anna. Non solo, ma noi abbiamo organizzato l'illuminazione, abbiamo fatto noi, la ditta, ma siamo noi. I fiori nell'antica chiesetta li adobbiamo noi, perché l'antica chiesetta è praticamente la nostra capellina di Sant'Anna. E in più ci dedichiamo anche alla processione. L'abbiamo sempre sentito nominare questa chiesa, abbiamo posato la prima pietra, poi il vuoto, e quindi per tanto tempo se ne è sentito parlare, però non si... Cioè, il momento di oggi è sempre stato atteso, ma la concretezza non c'è mai stata poi, nel senso, oggi riusciamo a realizzare pienamente che abbiamo una nuova chiesa, insomma. Qual è l'importanza di avere finalmente una chiesa per questa comunità parrocchiale? Beh, sicuramente è un punto di riferimento importante sia per noi giovani ma per tutta la comunità. Non avendo mai avuto poi una struttura, diciamo, che potesse definirsi tale, anche se poi la chiesa comunque non è la struttura ma le persone, insomma, che ci sono dentro, ecco. E si è conclusa la prima settimana della GMG per i ragazzi della diocesi di Chiavari e di tutta la Liguria. I 105 ragazzi sono stati ospitati dalla diocesi polacca di Radom. Nella messa festiva è stata consegnata in dono l'icona della Madonna della Guardia. L'esperienza ha permesso di affiatare il gruppo, fare nuove conoscenze ed alzare il livello di entusiasmo in attesa dell'incontro con Papa Francesco. Don Alberto Gastaldi ha raccolto le testimonianze dei ragazzi di Radom che a loro volta si preparano a raggiungere Cracovia. Si è conclusa a Radom la settimana di accoglienza dei pellegrini della Liguria. È appena terminata la messa insieme alla comunità parrocchiale di Sant'Alberto che ci ha accolto in queste giornate. Molto bello anche il clima che si è instaurato tra i giovani della nostra regione e della parrocchia. In particolare andiamo a conoscere alcuni dei giovani di questa parrocchia che hanno accompagnato i nostri pellegrini e hanno animato anche le celebrazioni con il loro canto. Qual è il tuo nome? Natalia. Come hai vissuto questi giorni qui insieme ai pellegrini italiani? Mi è piaciuto tantissimo e non ho mai visto che in questa chiesa sia stata una gioia del genere. Veronica, anche per te cosa ti ha colpito di più in questi giorni? Mi sembra che oggi la mogrò vedere. Penso che questo che potevo sperimentare, la presenza di Dio in un altro fratello, in un altro uomo, è proprio questa gioia che si poteva sentire. Daria, tutti noi siamo stati colpiti dalla vostra passione nel canto e nel suono. Come è nato e fate sempre questa attività in parrocchia? No, tak, že mi si spateca, ma ovviamente abbiamo spavato. Ci chiede tantissimo cantare e stare insieme e per questo abbiamo cominciato una volta. Anzi, perché quando lo facciamo per la gloria del Signore, allora ci porta sempre più grande forza. Alcuni giovani si preparano anche ad andare a Cracovia insieme ai tanti pellegrini da tutto il mondo. Carolina, anche tu come ti aspetti questa esperienza alla GMG? E la preghiera proprio per l'imminente GMG di Cracovia, ma il pensiero ai deplorevoli atti di terrorismo e di violenza di Monaco di Baviera, in Germania e di Kabul in Afghanistan e il senso della preghiera del Padre Nostro. Sono i temi toccati da Papa Francesco nella preghiera dell'Angelus in Piazza San Pietro. Il servizio di Radio Vaticana. Sono deplorevoli gli atti di terrorismo e di violenza che in queste ore hanno scosso il nostro animo. All'Angelus Domenicale il Papa pensa ai drammatici eventi di Monaco in Germania con la strage di venerdì pomeriggio che ha causato dieci morti, compreso il giovane killer, e di Kabul in Afghanistan dove un duplice attentato ha provocato oltre 80 vittime. Francesco si dice vicino ai familiari degli scomparsi, ai feriti e prega. Vi invito a unirvi alla mia preghiera affinché il Signore ispiri a tutti i propositi di bene e di fraternità. Quanto più sembrano insommortabili le difficoltà e oscure le prospettive di sicurezza e di pace, tanto più insistente deve farsi la nostra preghiera. Nella domenica in cui il Vangelo di Luca invita a riflettere sul senso della preghiera a Dio, il Padre nostro, Papa Francesco ricorda che il Signore conosce meglio di noi stessi le nostre necessità, ma vuole che gliele presentiamo con audacia e con insistenza perché questo è il nostro modo di partecipare alla sua opera di salvezza. La preghiera è il primo e principale strumento del lavoro nelle nostre mani. Insistere con Dio non serve a convincerlo, ma a irrobustire la nostra fede e la nostra pazienza, cioè la nostra capacità di lottare insieme a Dio per le cose davvero importanti e necessarie. Quindi al termine della preghiera mariana osserva che in questi giorni tanti giovani da ogni parte del mondo si stanno incamminando verso Cracovia per la 31esima giornata mondiale della gioventù. Il Papa li raggiungerà mercoledì prossimo per celebrare con loro e per loro, sottolinea, il Giubileo della Misericordia con l'intercessione di San Giovanni Paolo II. Vi chiedo di accompagnarci con la preghiera. Un pensiero speciale rivolgo ai tantissimi loro coetanei che non potendo essere presenti di persona seguiranno l'evento attraverso i mezzi di comunicazione. Saremo tutti uniti nella preghiera. I giovani e l'estate, lo studio e il lavoro. Abbiamo chiesto ai ragazzi del Tiguglio come stanno vivendo questo tempo di vacanza. Per molti la pausa dalla scuola coincide con anche la possibilità di svolgere un'attività lavorativa o formativa particolare. Sentiamo che cosa ci hanno detto. L'estate come banco di prova nel mondo del lavoro. Sempre di più ormai per i più giovani i mesi di pausa dalla scuola vengono spesi in esperienze lavorative. Accade anche tra i ragazzi del Tiguglio che alternano le ore di lavoro al mare e al divertimento. I progetti di alternanza scuola-lavoro, se da un lato mettono un freno all'abbandono scolastico e orientano meglio i giovani, dall'altra permettono di entrare prima nel mondo occupazionale con una maggiore consapevolezza al momento di scegliere il cammino futuro. Vivere l'estate lavorando dunque o studiando senza togliere tempo allo svago. Un invito in questo senso era stato formulato l'anno scorso a Genova da Barbara Serra, giornalista italiana conduttrice di Al Jazeera English a Londra. I ragazzi sprecano troppo tempo in estate rispetto a coetanei europei, diceva la Serra. Oggi i progetti di alternanza scuola-lavoro sono più concreti e anche tra i ragazzi è più forte il desiderio di impiegare il tempo studiando o lavorando. Ecco alcune voci di ragazzi incontrati per le strade di Chiavari. Il lavoro è l'attività principale, quella su cui mi sto veramente concentrando adesso. Il mio lavoro è un lavoro molto duro, molto pesante. Faccio turni, quindi lavoro metà della giornata. Nel tempo libero esco sempre con le amiche, una passeggiata al mare, a ballare. C'è cose che comunque bene o male ormai sono all'ordine del giorno. Io sto studiando parecchio perché è il primo anno di università e sto facendo ingegneria civile. Sono nel mezzo degli esami, quindi mi sto dedicando allo studio. Però qualche uscita al mare o alla sera con gli amici ci scappa sempre. Pensi che studiare sia un buon modo per utilizzare la propria estate? Sì, penso di sì, che comunque riesca anche in qualche modo ad aprire la mente e riuscire anche così a fare nuove esperienze anche dal punto di vista lavorativo. Quest'estate faccio un po' al mare, sto anche lavorando e quindi ci affascio tutte e due. Magari anche un po' in giro da qualche parte. Disagini in vista per la giornata di domani per il trasporto pubblico locale. Notizie che troviamo anche sul nostro sito, teleradiopace.com. I sindacati di categoria infatti hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per protestare contro la nuova legge regionale che cancellerebbe di fatto il bacino unico regionale da affidare tramite gara e l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale. La normativa, già approvata in giunta, è in discussione questo pomeriggio in Consiglio regionale. Gli autobus resteranno fermi a Genova per tutto il giorno con le fasce protette dalle 6 e le 9, dalle 17 e 30 alle 20 e 30. Anche ATP e le altre società che gestiscono l'entroterra saranno in sciopero con fasce garantite e anticipate di mezz'ora nel pomeriggio. La linea adesso va alla rassegna stampa per vedere i titoli del giornale in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti. Il Corriere della Sera titola il killer aveva un complice. In Germania un nuovo caso rifugiato uccide una donna con un macete. L'assassino di Monaco preparava l'attacco da un anno. Il manifesto e la pistola trovata in rete. E poi imbarcarsi per la Francia nel caos. Ore di attesa per i controlli voluti da Parigi, appunto per contrastare il terrorismo. E due commenti, uno di Claudio Magris, l'indomabile vita che non si rintana. E di Beppe Severnini, come è difficile tornare in Europa. Per l'economia, padone e visco sulle banche. I risparmiatori non rischiano. Montepaschi, il nodo dell'aumento di capitale. Nelle pagine interne del Corriere della Sera, Siria. La furia del raid del regime colpisce anche ospedali e medici. Bombe tra Aleppo e la periferia di Damasco. Ucciso anche un neonato. E per la Turchia, la strana alleanza laici e filo Erdogan sfilano a Istanbul per dire no al golpe. E poi siamo sul secolo XIX. Tre comuni su quattro non ospitano profughi. La mappa dell'accoglienza in Italia. Europa lite sui rimpatri. Libia, decine di migranti annegati. Corpi sulle spiagge. Il fronte ligure, pressione al confine. Ventimiglia sotto assedio. Lascia il segretario del Partito Democratico. E poi Piazza Matteotti stoppa le auto ma senza esagerare. Chiavari da oggi scatta la pedonalizzazione dalle 16 alle 20. All'interno del secolo XIX nella pagina del Levante. Rifiuti da Lavagna e Nucera nel Mirino da 30 anni. Evidenziati già nel 1988. Incendi e mancata differenziazione della spattatura all'ecocentro della Madonna della Neve. La polizia e il comune ha sempre saputo delle irregolarità. E ancora dal secolo XIX. Santo Stefano turismo per tradizione. In Val Daveto passeggiate nei boschi. Attività sportiva e escursione con cavalli asini. Il sindaco qui famiglie. Ma non solo. Gli albergatori arriva il top della stagione. Due stranieri denunciati perché sprovvisti del permesso di soggiorno. Tre persone deferite perché trovate la guida in stato di ebrezza alcolica. Il bilancio dell'attività di controllo messa in atto dai carabinieri della compagnia di Chiavari nel corso del fine settimana anche con l'ausilio di unità cinofile. Complessivamente sono state identificate quasi 300 persone e controllate circa 200 autovetture tra Chiavari, Zoagli e i comuni della Val Fontana Buona. A Chiavari i controlli si sono concentrati soprattutto nell'area della stazione ferroviaria e sul lungomare. E per altri aggiornamenti di cronaca andiamo in redazione dove è pronto Alberto Viazzi. Sì allora abbiamo una notizia che arriva da Sestri Levante. Un giovane di 37 anni italiano nato in Belgio, residente a Sestri Levante, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, coniugato, disoccupato, è stato intercettato dai militari nei presi della sua abitazione nel quartiere della Lavagnina mentre parlava in modo sospetto con uno straniero. Sottoposto al controllo si è mostrato molto nervoso. I carabinieri hanno quindi effettuato le perquisizioni personale e domiciliare. Nella camera da letto hanno trovato 165 grammi di hashish suddivisi in due panetti, nonché 1500 euro, probabile incasso dell'attività di spaccio, un coltello a serramanico con la lama ancora intrisa di hashish usato per il taglio dei panetti. Tutto il materiale che vediamo in fotografia è stato sequestrato. Il giovane è stato messo agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Sestri Levante. Dalla redazione tutto. Ed è stata la squadra Made in Rovereto, composta da Giorgio, Chiara, Mattia, Paolo, Giovanni e Fabio, è ad aggiudicarsi la Coppa del torneo Polverone 2016, disputatosi nel campetto in terra battuta di Sant'Andrea di Rovereto. Vincitori del torneo dei piccoli. La squadra dei blu, formata da Noemi, Nicola, Samuele e Andrea. 12 in tutto le squadre miste, formate secondo una regola che garantisce la massima partecipazione di tutti, sia maschi sia femmine, per un totale di oltre 70 partecipanti. Stiamo vedendo alcuni scatti della manifestazione che è nata tre anni fa intorno ai lavori di ristrutturazione del campetto del paese, rinnovato grazie all'impegno congiunto dei bambini, dei loro genitori, degli abitanti delle frazioni e delle comune di Chiavari. Il campetto in terra battuta è intitolato a Paolo Peirano. Il torneo Polverone è l'evento estivo che corona un intero anno di utilizzo del campetto. Alla fine spazio per la festa finale sul Sagrato della Chiesa di Sant'Andrea, con premi per tutti i partecipanti, coppe speciali realizzate con materiali di recupero dalle ragazze dello staff, perché si è distinto per simpatia, spirito di squadra, impegno e partecipazione. Un appuntamento per questa sera per la rassegna di teatro dialettale Elio Rossi. Questa sera a Chiavari, nel parco di Villarocca, sarà rappresentata la commedia a parola Leunna Umashimo, due tre atti di Annibale Bacigalupo. Lo spettacolo è portato in scena dalla compagnia teatrale Gilberto Govi di Genova, con la regia di Piero Campodonico su note di Cesare Viazzi. E con questo appuntamento si conclude questa edizione del TG13. Vi ricordo che l'informazione ritorna questa sera alle 19.15 con la prima edizione di TGU gli Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito www.teleradiopace.com Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.